L'Alta Valle diserta l'incontro con la Regione per discutere delle opere legate alle Olimpiadi. Noi abbiamo i progetti pronti, siamo sempre disponibili. Così ha scritto su Facebook il presidente della comunità montana Valchiavenna Davide Trustoni dopo l'annuncio da parte dei sindaci dell'Alta Valle di non voler partecipare ad alcun confronto con la Regione fintanto che non sarà fatta chiarezza sul futuro dell'ospedale Morelli. Una provocazione che però non ha mancato di suscitare reazioni. Uscita infelice, scrive l'ex sindaco di Sondalo Luigi Grassi, che parla di sudditanza accusando la Valchiavenna di voler sgambettare il proprio vicino pur di accaparrarsi le grazie del padrone, leggi Regione, e di voler sfruttare maldestramente la questione della sanità pubblica per trarne improbabili vantaggi. Anziché unirti alla battaglia di dignità istituzionale dei sei sindaci dell'Alta Valle per difendere anche il vostro ospedale, rinfaccia Grassi a Trussoni, preferisci un baratto con non si sa cosa? Tristissimo. Immediata la controreplica. Sei fuoristrada, risponde il presidente dell'ente mandamentale della Valle del Mera. La Valchiavenna, con atti ufficiali, ha sempre portato avanti la richiesta di soluzioni condivise a livello provinciale, sia sul tema sanità che su quello olimpiadi. Ma il tema del mio post, pubblicato sul mio profilo personale, precisa, erano le olimpiadi e le per ora non del tutto ripagate aspettative di tutto il territorio. Trussoni un mese fa, infatti, aveva espresso rammarico per il mancato inserimento della Valchiavenna nel piano delle opere prioritarie in vista dei giochi, rilanciando al governatore Fontana, agli assessori regionali Sertori e Terzi e al presidente della provincia Moretti le proprie richieste. Primo, potenziamento impianti sportivi con possibili coinvolgimento nazionali olimpiche per ritiri e allenamenti. Secondo, completamento interventi di sistemazione e adeguamento della Statale 36. Terzo, riqualificazione linea ferroviaria Colico-Chiavenna. Quarto, collegamenti viabilità internazionale, passo Spluga. Temi da approfondire in un incontro con gli enti superiori che stiamo aspettando di poter avere, scrive Trussoni, il quale aggiunge, bene il marchio Valtellina per promuovere il territorio, sì ad una visione unitaria e coesa degli obiettivi strategici per la provincia di cui la Valchiavenna è sempre stata sostenitrice, le Olimpiadi devono vederci tutti uniti. Il mio post, come del resto la legittima decisione dei sindaci dell'Alta Valle, è semplicemente una richiesta di attenzione. Strumentalizzazioni e strategie occulte non mi appartengono, conclude Trussoni, che rivolge a Grassi la battuta, chi ha il pane non ha i denti.